Emergenza Covid-19, da domani la Sicilia sarà zona arancione, significa regione a medio rischio. Chiudono bar e ristoranti per i quali sarà consentito solo l'asporto coprifuoco alle 22, vietato anche spostarsi da un comune all'altro. Intanto, dopo mesi di pandemia trascorsi infrottosamente, sembra un'accelerazione improvvisa, quella adottata solo ora dalla regione siciliana per adeguare gli ospedali all'emergenza Covid. Annunciati 3.600 nuovi posti letto, tra i quali 416 terapie intensive. Curva dei contagi provincia ed egrigento, 52 nuovi casi registrati dall'ASP, preoccupa la situazione a Santa Margherita, dove gli attuali positivi salgono a 54. Scende invece il numero delle persone contagiate a Sciacca. Emergenza coronavirus, sabato e domenica prossimi a Sciacca, tamponi rapidi su base volontaria per studenti e personale docente e non docente delle scuole superiori. Al via la campagna di monitoraggio promossa dalla regione. Disaggine la distribuzione idrica a Sciacca a causa di un guasto all'acquedotto Carboi. L'intervento di sistemazione è stato avviato, ma oggi e domani ci saranno limitazioni e slittamenti dei turni di erogazione in diverse zone della città. Al via lunedì prossimo a Sciacca la nuova gestione dei parcheggi a pagamento che il Comune ha deciso di effettuare in house si pagherà con i gratte e sosta o tramite un'app da scaricare sullo smartphone. Ben ritrovati a RMK Notizie. Per contrastare l'emergenza sanitaria, ieri è stato emanato un nuovo DPCM che entrerà in vigore domani. Come è noto l'Italia è stata divisa in tre zone a seconda dei livelli di criticità a cui sono state assegnate i colori rosso, arancione e giallo. La Sicilia rientra nella zona a medio rischio arancione. Coprifuoco dalle 22 consentiti spostamenti tra comuni e regioni solo per comprovate esigenze. Per bar e ristoranti consentito solo l'asporto. Ma abbiamo fatto il punto in questo servizio. Nuovo DPCM, nuove indicazioni per contrastare l'emergenza sanitaria, come è noto differenziate da zona a zona. L'Italia è stata suddivisa in tre macro aree indicate con colori diversi a seconda dei livelli di criticità. Tra rosso, livello massimo di allerta, arancione, criticità intermedia e gialla, per le regioni in cui l'emergenza è meglio fronteggiata. La Sicilia si trova nella zona intermedia, dunque arancione, assieme alla regione Puglia. Le novità sono state illustrate ieri sera dal Premier Giuseppe Conte durante l'ennesima conferenza stampa. Come si legge anche sul sito istituzionale del Governo, nell'area arancione è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi, se non per motivi di salute, lavoro o studio, situazioni di necessità. Sono vietati gli spostamenti in entrate e in uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvi comprovati motivi. È possibile invece spostarsi liberamente all'interno della propria città fino alle 22. Qualora fosse strettamente necessario raggiungere o un altro comune o un'altra regione, oppure ancora uscire dopo l'orario consentito, sarà necessario compilare, come accaduto durante il lockdown, l'autocertificazione precedentemente scaricata online oppure messa a disposizione dalle forze dell'ordine durante i posti di blocco. Bar e ristoranti sono chiusi sette giorni su sette, mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno, mentre mostre e musei rimangono chiusi. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese anche nei bar e nelle tabaccherie. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, restano aperti i centri sportivi. Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. E a proposito di scuola, la didattica a distanza è estesa a tutte le classi delle scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti disabili con attività di laboratorio, mentre alle elementari e alle medie è prevista l'attività in presenza, ma con mascherina. Con il nuovo DPCM vengono sospesi anche i concorsi pubblici, eccezione fatta per quelli relativi alle forze armate, al personale sanitario e alla protezione civile. Queste le principali misure per il contrasto e il contenimento delle emergenze da Covid-19 che entreranno in vigore da domani, venerdì 6 novembre, e saranno valide, salvo ulteriori novità, fino al 3 dicembre prossimo. Come ha spiegato il Presidente durante il suo intervento, l'assegnazione delle categorie di rischio potranno essere suscettibili di cambiamenti nel corso dell'evoluzione della curva epidemica. La scelta del Governo di inserire una regione in una zona piuttosto che in un'altra si bassa su ben 21 parametri, analizzati per classificare il grado di rischio di un territorio. Non conta infatti solo il numero dei contagi, ma soprattutto la tenuta dei servizi sanitari. Evidentemente il sistema sanitario siciliano non è al pari di altre regioni rientranti nella zona gialla. C'è infatti da tenere in considerazione non solo il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di quelli destinati a soli pazienti Covid, ma di tutta una serie di parametri relativi all'assistenza dei positivi, quanto tempo passa tra la diagnosi e l'intervento dei pazienti, alla tempistica relativa ai tamponi e tanto altro. Eppure la classificazione della Sicilia tra le regioni a medio rischio ha suscitato già ieri l'ira del governatore regionale Nello Musumeci. La scelta del Governo nazionale di relegare la Sicilia a zona arancione appare assurda e irragionevole, ha dichiarato Musumeci puntando il dito contro il Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha voluto, ha continuato Musumeci, adottare la grave decisione senza alcuna preventiva intesa con la regione e al di fuori di ogni legittima spiegazione scientifica. La reazione del governatore della Sicilia non ha però mutato la situazione, c'è soltanto da sperare che i contagi nel frattempo diminuiscano e che il sistema sanitario respiri un po'. Solo così la Sicilia nel prossimo provvedimento potrà rientrare in zona gialla. E a seguito del nuovo DPCM di ieri sera arrivano anche primi provvedimenti da parte dei comuni. L'amministrazione comunale di Sciacca fa sapere che a partire da domani e fino al 3 dicembre saranno sospesi i servizi di apertura al pubblico del Museo del Mare Galleria Fazzello e della Biblioteca Comunale Aurelio Casser. La chiusura è stata disposta a seguito delle nuove disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenute come misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. E da Ribera c'è chi teme che adesso possa scattare il fuggi-fuggi di studenti e lavoratori dalle zone dichiarate rosse a seguito dell'ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e il consigliere comunale Paolo Caternicchi a sollevare la questione in una nota al Sindaco Matteo Ruvolo al quale chiede in qualità di autorità sanitaria del Comune quali provvedimenti intende adottare al fine di evitare il rischio di nuovi contagi. Molti, al ferme il consigliere, chiedono se è possibile fare test sierologici e tamponi molecolari non sapendo se è dove fare eventualmente la quarantena domiciliare. Sembra un'accelerazione improvvisa dopo mesi di pandemia che si sono rivelati evidentemente infruttuosi quella della Regione Siciliana per adeguare gli ospedali all'emergenza Covid. Ieri sono stati annunciati 3.600 nuovi posti letto, fra i quali 416 terapie intensive. Situazione che conferma la natura di ospedali misti per i nosocomi. A Ribera, il manager dell'ASP Zappia, ha organizzato un non sopralluogo urgente. Sentiamo. Correre, correre, correre. È diventata questa improvvisamente la parola d'ordine della Regione Siciliana per adeguare gli ospedali e dotarli di un numero di posti letto che sia compatibile con la velocità con la quale il Covid si sta propagando. Sullo sfondo c'è sicuramente la dichiarazione di zona rossa per la nostra isola soprattutto se si pensa che ci siamo lasciati dietro le spalle mesi fatti essenzialmente di chiacchiere e annunci piuttosto che di fatti concreti ed è probabilmente questo lo scenario che fa da sfondo a quella che a più di qualcuno appare come la clamorosa decisione adottata dal governo Conte. E dunque, nella necessità di correre, ieri l'assessore Ruggero Razza, che come Nello Musumeci contesta la decisione dell'esecutivo nazionale, ha annunciata alla Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana, quella presieduta da Margherita Larocca Ruvolo, l'attivazione di 3.600 nuovi posti letto negli ospedali siciliani, tra cui 416 quelli che saranno destinati a terapia intensiva. In provincia di Grigento questo significherà la conferma dei sei posti letto di terapia intensiva più ulteriori 30 posti letto tra malattie infettive ed agenza ordinaria per pazienti affetti da coronavirus all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. C'è poi la dotazione prevista per l'ospedale di Ribera, 10 posti di terapia intensiva e 20 di degenza ordinaria e ricoveri a bassa complessità da farsi entro il 15 novembre, posti letto che entro alla fine del mese poi dovranno diventare 50. E ancora a regime al San Giovanni di Dio di Grigento dovranno nascere 14 terapie intensive e 80 posti di degenza ordinaria. Altri 88 posti sorgeranno in residenze sanitarie assistite ed altre strutture, una di queste sarà la ex IPAB Rizzuti Sacro Cuore di Caltabellotta, ex casa di riposo chiuso ormai da anni. La destinazione di paziente anche qui potrebbe permettere a nove persone di poter tornare a lavorare. Nel frattempo si è svolto ieri un sopralluogo del manager dell'ASP Zappia, dell'onorevole Laura Caruvolo, del direttore sanitario di presidio Salvatore Cascio e per la fondazione Maugeri di Giuseppe Laganga Senzio e di Domenico De Cicco all'ospedale di Ribera per verificare lo stato dell'arte, dei lavori necessari a fare del fratelli Parlapiano, quel Covid Hospital di riferimento per il territorio provinciale di cui si parla da mesi. Un Covid Hospital che, come detto, doveva essere pronto da un bel po' di tempo, cosa che adesso sta costringendo, e che è arrivato di fatto ieri, ad accelerare l'iter tecnico-amministrativo che porterà a breve all'attivazione di 60 posti letto destinati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, ampliando la ricettività dei nosocomegrigentini. Proprio le ipotesi di mantenimento dell'unità di riabilitazione neuromotoria della Maugeri all'interno dell'ospedale Crispino sono state passate al vaglio nel corso della mattinata di lavori assieme alla definizione dell'attivazione del reparto di malattie infettive nella struttura. Tutte le valutazioni e le decisioni, che saranno naturalmente prese in definitiva dall'assessore regionale Ruggero Razza, saranno poste al vaglio della conferenza dei sindaci per le determinazioni conseguenziali necessarie a concludere le azioni di potenziamento dell'ospedale Fratelli Parlapiano. Andiamo adesso alla curva dei contagi in provincia. 52 nuovi positivi nel report dell'AST. Preoccupa la situazione a Santa Margherita Belice con 10 nuovi casi ed un totale di 54 attuali positivi. Tre casi anche a Montevago, che fino a questo momento non era stato interessato dai contagi, raggiunge quota 30 il numero delle persone contagiate invece a Ribera. Sciacca scende sotto la soglia dei 40 con i nuovi guariti. Il punto nel servizio di Noemi Tummiolo. Sono 52 i nuovi casi di Covid-19 certificati nel consueto bollettino diffuso dall'Aspe di Agrigento questa mattina e che fa riferimento alla giornata di ieri 4 novembre. 52 nuovi soggetti positivi su 315 tamponi effettuati. Non cambia di molto, per fortuna, la situazione negli ospedali. Solo due i nuovi ricoveri, uno al San Giovanni di Dio di Agrigento, l'altro al Covid-Hotel di Ribera. Scende di una unità rispetto al giorno prima il numero dei ricoverati al Giovanni Paolo II di Sciacca, dove adesso le persone ricoverate sono 17. In ordine ai contagi, Sambuca di Sicilia rimane il comune con il più elevato numero di persone positive al Covid. Adesso sono 92, cioè due in meno rispetto al giorno precedente. Preoccupa la situazione a Santa Margherita Belice, dove il bollettino dell'Aspe segna 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 54 attuali positivi. Per la prima volta nel report dell'Aspe spunta il piccolo comune di Montevago, che fino a questo momento non aveva registrato casi di coronavirus, e adesso invece l'azienda sanitaria provinciale riporta tre persone positive. Non si tratta però di soggetti che vivono a Montevago, come ha tenuto a precisare in un videomessaggio il sindaco Margherita Larrocca al Ruvolo. Oggi abbiamo avuto dall'Aspe la comunicazione che sono positivi tre nostri concittadini che sono residenti a Montevago, ma che vivono e quindi sono domiciliati da sempre a Santa Margherita. Lì stanno facendo la loro quarantena e lì stanno interloqueando con l'Aspe per i passaggi successivi. Quindi i tre positivi di Montevago sono positivi sulla carta, nel senso che sono residenti da noi, ma non vivono a Montevago. Ancora una volta, ad oggi, in questo momento, la comunità di Montevago non ha ricevuto dall'Aspe comunicazioni di positivi che vivono a Montevago, quindi sono domiciliati e residenti. Per essere chiari, siamo in attesa, ovviamente, di altri tamponi che sono stati fatti, quindi del risultato di tamponi che sono stati fatti, ma ad oggi non li abbiamo ancora ricevuti. Chi è in quarantena fiduciaria da giorni, capisco che è anche stanco, spazientito, ho sollecitato l'Aspe per avere le risposte che devono essere date, mi hanno assicurato che nella giornata di oggi questo sarà fatto. Contagi in aumento anche a Ribera, che ha raggiunto quota 30 con ulteriori 4 nuovi casi nelle ultime ore. La città di Sciacca registra 3 guarigioni, il numero degli attuali positivi adesso è sceso a 39. Nessun nuovo caso a Menfi, dove le persone contagiate restano 8, e a Caltabellotta, dove gli attuali positivi sono 6. Andando oltre l'Interland e Saccense, a Canicattì i contagi continuano ad aumentare, adesso sono 65. Sette nuovi casi a Licata, che portano a 56 il numero degli attuali positivi, 50 le persone attualmente contagiate nella città di Agrigento. Ancora emergenza coronavirus, sabato e domenica prossimi a Sciacca, test rapidi per studenti, famiglie degli studenti, personale docente e non docente delle scuole superiori. Prende via la campagna di monitoraggio su base volontaria promossa dalla Regione. Chi vorrà sottoporsi al test dovrà far pervenire attraverso le scuole la propria adesione al Comune entro le ore 9 di domani. E sulla base delle richieste pervenute saranno poi individuate le aree e gli orari in cui verranno eseguiti i tamponi. Sentiamo. Parte a Sciacca la campagna di monitoraggio sanitario della popolazione promossa dalla Regione siciliana nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus. Sarà curata dall'aspe di Agrigento con il coinvolgimento del Comune per ciò che concerne gli aspetti organizzativi e sarà su base volontaria. Si inizia con le scuole superiori, sabato 7 e domenica 8 novembre. In questa prima fase saranno interessati i comuni, capoluogo e quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed il monitoraggio attraverso test rapidi riguarderà la popolazione scolastica delle scuole superiori. Il Comune di Sciacca ha già informato i dirigenti scolastici dei quattro istituti superiori della città e saranno loro a verificare la disponibilità del proprio personale, degli studenti e delle famiglie a sottoporsi al test volontario e a comunicare i relativi elenchi al Comune entro le ore 9 di domani. Ieri siamo stati informati che sabato e domenica si svolgerà la prima parte di questo screening che in questa fase coinvolgerà gli alunni delle scuole secondarie superiori, il personale docente e non docente e le relative famiglie. Quindi da ieri pomeriggio siamo al lavoro insieme alle scuole, ai quattro istituti superiori di Sciacca che ci stanno dando una significativa mano d'aiuto, una grande collaborazione perché le famiglie e gli alunni e il personale docente che vorranno sottoporsi al tampone dovranno comunicarlo alla scuola e saranno poi le scuole a entro domani mattina comunicare a noi il numero di chi vorrà sottoporsi ai tamponi e noi avremo così un'altra mezza giornata di tempo per organizzare tempi e luoghi dove verranno sottoposti questi tamponi su base volontaria. Ovviamente i tamponi verranno, la gestione sanitaria dei tamponi a cura dell'ASPE. Sarà dunque sulla base del numero di richieste pervenute che saranno poi individuate le aree idonee e gli orari per consentire un efficace e sicuro svolgimento dello screening con tamponi rapidi. Ancora non siamo in grado di stabilire e di comunicare alla cittadinanza dove verranno collocati questi punti tampone, in quale fasce orarie verranno attivati perché abbiamo bisogno di un dato numerico circa la disponibilità della popolazione a sottoporsi ai tamponi. Però entro metà mattinata di domani dovremmo già essere in grado di dare queste prime informazioni. Disaggi nella distribuzione idrica a Sciacca a seguito di un intervento di manutenzione che si è reso necessario lungo l'acquedotto Carboi. Per permettere l'esecuzione della riparazione è stato necessario disattivare l'impianto di sollevamento a servizio dei pozzi di Contrada Carboi. La turnazione prevista nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani dal Selvatorio Mure di Vega subirà dunque limitazioni o slittamenti. Inoltre il turno denominato Contrada Piana e Contrada Raganella, ovvero la zona 9, è stato rinviato a domani. La distribuzione tornerà a regolare non appena saranno ultimate le dovute operazioni di manutenzione normalizzandosi nel rispetto dei tempi tecnici. Si è insediato stamattina il commissario ad acta che sostituirà il Consiglio Comunale di Sciacca, Pietro Valenti. commissario che è stato ricevuto dal sindaco con cui, nonostante lo stesso cognome, non sono parenti. La nomina del commissario ad acta è arrivato nel pomeriggio di ieri con il decreto assessoriare numero 371 con il quale l'assessore alle autonomie locali Bernadette Felice Grasso ha dichiarato sospeso il Consiglio Comunale. Il provvedimento trae spunto dalla recente bocciatura del consuntivo. L'assessore ha nominato il commissario ad acta che sostituirà l'organo eletto nel 2017. Un provvedimento, quello della sospensione, che precede quello dello scioglimento vero e proprio che dovrà essere firmato in quel caso dal presidente della regione. Inizia lunedì a Sciacca la nuova gestione dei parcheggi a pagamento che il Comune ha deciso di effettuare in house. Si pagherà Oconi, Gratta e Sosta oppure attraverso un'app da scaricare sullo smartphone. Al momento si parte con le stesse strisce blu gestite fino a pochi mesi fa da privati. Non ci saranno posti auto riservati. Stamattina le novità illustrate in una videoconferenza stampa. Massimo D'Antoni. Scatta lunedì il nuovo sistema dei parcheggi a pagamento che saranno gestiti dal Comune di Sciacca. Le strisce blu interessate saranno quelle già organizzate in passato dall'SGS. 226 posti auto o stalli, come si chiamano tecnicamente, situate tra Piazza Mariano Rossi, Via Incisa, Porta Palermo, Viale della Vittoria e Piazza Saverio Friscia. Si procederà con il Gratta e Sosta. I tagliandi saranno in vendita presso bar e tabaccheria alla tariffa di 1 euro l'ora o di 50 centesimi per 30 minuti. Ma l'amministrazione comunale ha deciso anche di rivolgersi agli sviluppatori di una app per smartphone che permetterà di pagare il minutaggio effettivo di sosta. Previsti abbonamenti mensili, 50 euro, 10 in più del prezzo praticato dal precedente gestore privato. La provvigione per i rivenditori dei Gratta e Sosta sarà del 5%, mentre quella per i gestori dell'app sarà del 7%. Stamattina il nuovo sistema è stato illustrato in una videoconferenza stampa dal sindaco Valente, dall'assessore al parcheggi Bacchi, dal direttore dei servizi finanziari del Comune, che curerà gli aspetti amministrativi, Filippo Carlino. Il piano parcheggi del Comune di Sciacca prevede una quantità di stalli superiore. Noi abbiamo in questo primo step deciso appunto di attivare queste quantità di stalli pari a 226 e corrisponde esattamente alla quantità di stalli che gestiva la gestione, la SGS. Chiaramente noi iniziamo questo percorso, quindi questa gestione in house dei parcheggi proprio da, quindi partendo chiaramente da una valutazione principalmente di carattere economico-finanziaria e sulla base anche del piano parcheggi che è di concerto con, di collaborato chiaramente dalla comandata della Polizia Municipale, che prevede a regime un certo numero di stalli di sosta blu in tutto il territorio. Oggi chiaramente la scelta dell'amministrazione è quella di partire con un primo step che corrisponde esattamente al numero di stalli che aveva in gestione la SGS. Laddove un soggetto ha l'abbonamento, questo significa che non ha il posto riservato, ma di cosa trova posto libero. Sia l'abbonamento che anche la gestione oraria non ha la riserva del posto. Il soggetto quando sosta la macchina e quindi attiva il grattino nel caso del gratte sosta, prima uno parcheggia e poi eventualmente attiva il grattino, lo compra e lo mette sullo scotto. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la gestione dell'app, perché io l'app l'attivo quando ho parcheggiato la macchina e quindi con il mio telefonino metto a via sosta. Chi sta più di 6 ore, quindi se uno tiene la macchina 12 ore, chiaramente 11 ore che è il massimo previsto per quanto riguarda la sosta e il pagamento, quindi più di 6 ore al giorno non paga. Sul sito dell'amministrazione del comune sarà pubblicato un prospetto informativo dove continuerà come si scarica l'app, come si compitura, come è possibile anche fare le ricariche o eventuali pagamenti. Per noi questo costituisce veramente una scommessa perché come amministrazione ci abbiamo veramente scommesso su questa gestione in house del parcheggio. L'organizzazione del servizio, soprattutto dal punto di vista dei controlli, sarà curata naturalmente dalla Polizia Municipale. è costretta però a fare conti con questa nuova necessità, pur con una dotazione organica purtroppo ridotta all'omicino. I progetti dei privati Borsellino e altri, diciamo così, sono ancora all'ordine del giorno? Sento che sì, non è risolutivo. Questo parcheggio, che stiamo facendo della gestione di un parcheggio che già avevamo, ma che sappiamo bene non essere sufficiente, perché il problema dei parcheggi è un problema che c'era ieri e che continua ad esserci oggi. Entra nel vivo l'udienza preliminare a carico del 72enne Gaetano Agozzino, accusato di aver investito con l'auto il motociclista Leonardo D'Amico, 48 anni, di Sambuca di Sicilia, durante una tappa del Giro d'Italia da Grigento nel 2018, deceduto poi dopo un mese di agonia. È subito scontro di perizie tra l'accusa e la difesa. Sulla base dei nuovi atti, l'imputato deciderà se confermare o meno la strategia processuale del rito abbreviato. Sentiamo. È subito scontro di perizie tra parte civile e difesa dell'imputato relativamente all'udienza preliminare a carico del 72enne Gaetano Agozzino, accusato di aver investito con la propria auto il motociclista Leonardo D'Amico, 48 anni, di Sambuca di Sicilia, durante una tappa del Giro d'Italia ad Agrigento nel 2018, d'Amico che è poi deceduto dopo quasi un mese di agonia in ospedale. La parte civile, ossia Aldorossi che rappresenta i familiari della vittima, ha depositato la consulenza tecnica di parte, mentre il legale dell'imputato, Gaetano Agozzino, adesso chiede un margine di tempo per poter visionare meglio questi nuovi atti e decidere se confermare o meno la strategia processuale del giudizio abbreviato. La decisione dovrebbe essere presa nel corso dell'udienza già fissata per il prossimo 9 dicembre. Ieri mattina il primo passaggio celebrato dinanzi al Gup Alessandra Vella. Gaetano Agozzino è accusato di omicidio stradale e resistenza pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe travolto e ucciso con la sua Fiat Stilo Leonardo D'Amico, agente di commercio. L'incidente è avvenuto nei pressi di Contrada Maddalusa il 9 maggio del 2018, in occasione della tappa grigentina del Giro d'Italia di ciclismo. L'anziano, secondo quanto ipotizza la procura, avrebbe violato l'ordine degli addetti dell'ANAS, che gli avrebbero imposto di non passare, perché si sarebbe trovato davanti la carovana di auto e bici a seguito della tappa. Avrebbe rimosso le transenne e investito la moto di D'Amico, che sopraggiungeva fatalmente in quel momento. Il motociclista morì dopo più di tre settimane di agonia. Agozzino, per questi fatti, restò tre mesi agli arresti domiciliari, salvo poi tornare in libertà. L'agrigentino sarebbe andato in Contrada Maddalusa a fare jogging. Al ritorno avrebbe trovato la strada sbarrata, perché era in corso la tappa del Giro d'Italia. Da lì, poi, la tragedia. Il suo difensore, l'avvocato Salvatore Maurizio Buggea, ha chiesto il giudizio abbreviato, che adesso, come detto, dovrà essere confermato o meno. L'avvocato di parte civile Aldo Rossi, ha replicato producendo prima delle indagini difensive e adesso la consulenza tecnica, che sarà vagliata. Si riaprono i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al beneficio economico regionale per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre presso i PUA dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. A darne notizia è l'assessore alle politiche sociali, Gisella Mondino. Alla domanda da compilare su apposito modulo, vanno allegate delle certificazioni. Sul sito del Comune di Sciacca è possibile prendere visione della circolare dell'assessore regionale alla sanità e scaricare il modello di domanda. Viabilità rurale di Caltabellotta. Grazie a fondi della protezione civile regionale e a quelli aggiuntivi predisposti dal Comune, si è finalmente intervenuto su decine di arterie rurali abbandonate da decenni e parecchio frequentate da agricoltori ed allevatori. Tra queste la Cotonaro-Lavanche, Vigna di Corte, San Pellegrino, Scifo-Giuliana e tante altre. Calogero parla piano. Dopo decenni di attesa, si interviene finalmente sulla viabilità rurale di Caltabellotta. Decine gli interventi già eseguiti o comunque programmati, resi possibili grazie ai finanziamenti ottenuti dalla protezione civile regionale, a cui sono stati aggiunti cospicui fondi comunali per volontà dell'amministrazione guidata dal sindaco Calogero Cattano. Una boccata d'ossigeno per il sistema viario secondario, particolarmente utilizzato dagli utenti del settore agricolo e zootecnico. Un risultato ottenuto grazie anche alla solerzia degli uffici e dei dipendenti comunali e degli stessi cittadini che hanno segnalato le situazioni più precarie e più bisognose di interventi. Si tratta di lavori di messa in sicurezza, interventi di sistemazione della viabilità rurale, riparazione di buche e avvallamenti e bitumatura. Con i fondi della protezione civile regionale si è intervenuto sulle strade e contrade denominate Crocevie Nero, Scifo Giuliana, San Leonardo, Gessa, Piano Monaco, Incrocio Lavanche, San Crispino, Vigna di Corte e altre. Con fondi comunali invece si è lavorato sulle zone denominate Finocchiara, Cotonaro Lavanche, Figotto-Cammauta, San Marco, Cannonina, Agliara, Giraffe, Cristarella, Martini, San Pellegrino, Areda, Gargaluso e tante altre. Interventi piuttosto attesi dai lavoratori del comparto, che avevano difficoltà a raggiungere persino i propri appezzamenti di terreno. L'auspicio è che si possa continuare ad intervenire per completare la mappatura anche nelle restanti zone rurali. E adesso la rubrica Libro del Giorno. Ve lo ricordate il tasto svuota il carrello? Si trovava un po' in tutti gli e-commerce. Eppure se fate un giro su Amazon Wish o Zalando vedrete che è sparito, evaporato in una nuvola di pixel. Cos'è successo? Semplice. Un addetto al marketing si è svegliato e ha pensato perché permettere agli ignaro consumatori di svuotare con un solo clic l'intero carrello non appena si fa sentire il rimorso da portafoglio. Da quel giorno ci tocca togliere i prodotti uno per uno valutando se possiamo fare davvero a meno di quell'utile spremi agrumi o di quella graziosa salopet. Questo è solo un esempio minimo di come le strategie del marketing ci influenzino invisibili ogni giorno. Dal menù caffè più spremuta ma la volevi poi la spremuta alla bulimia dei servizi streaming profilo smart o premium Gianluca Diegoli, esperto consulente di marketing ha scritto un libro che parla non solo agli aspiranti marketer ma soprattutto a noi consumatori con autoironia ed esempi concreti ci mostra le tecniche e i meccanismi con cui lui e i suoi compari cercano di venderci qualsiasi cosa spiegandoci anche perché spesso alla fine ci riescono. In questa infinita partita tra consumatori e marketer è sempre difficile capire quanto le fazioni siano opposte o quanto invece sotto sotto siano complici per esempio il break friday serve a loro per vendere o a noi per comprare a cuor leggero quel televisore gigantesco d'altra parte ci diciamo era un'offerta imperdibile. Svuota il carrello il marketing spiegato benissimo di Gianluca Diegoli Edito UTET E con i consigli della libreria Mondadori finisce qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.